Yo, sono Yosef e oggi siamo qui con Zamp per il primo turno del torneo FUT Melagodo Bello ragazzi, qui come sempre è Zamp che vi fa Zamp che vi fa Ed è... Cazzo ridi che pile scopole mo È un momento molto delicato Perché siamo amici nemici da molto tempo su FIFA, sui vari FIFA C'è sempre stata un'aperta lotta tra me e Yoman E nel 12 diciamo prevaleva sempre lui ma quest'anno forse è l'anno del riscatto Vedremo Ai 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 Notate la sua liga francese di buggati Liga francese Scusa amica È come dire Bundesliga italiana Down Vabbè poi parlo io che c'è i giocatori più buggati sulla faccia della terra Però c'ho i bug che costano caro quindi forse sono un pochino giustificato Che cazzo è quello Diciamo cosa c'è in palio Che magari... Eh non lo sa... Non lo diremo... Tranquillo non dobbiamo dire niente di quello È già stato tutto... Ah il movimento di Royce Sì vanga là Perché quest'anno non hai preso la scimmia nera? No 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 C'è Cominciamo Lo script inizia ad entrare in giro Lo script inizia ad entrare... Aspetta mi è andato a puttare nel... Come cazzo si chiama lo schermo Vabbè? Eh ho perso la pala Eh vai te la restituisco Grazie fair play Non era vero! Mamma mia! No no era vero Era vero? Ok Perché tanto adesso disegno Guarda guarda che bordello che fa in difesa Eh appunto intanto Eh la mia squadra si chiama Safari Perché come potete vedere C'è molta gente dalla giungla Con tutto il rispetto per gli iscritti di colore Ovviamente Sì Io magari è meglio se ci concentriamo un po' più sulla partita Comunque sia Podoschi Apre per Schurle Oh ti ho detto non entra C'è prova Schurle Il cross dentro dall'altra parte Non arriva Che è quel numero? Eh giungla per lui Ahia la mia difesa non è ben schierata Ah 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 giungla Rene contro Santana Che intervento di Santana Ma che rigore? Ho fatto un intervento che mancò cannavaro dei tempi d'oro Che è? Mamma mia Brinda fucking bug Ma no Mamma mia fortuna che Yeoman c'ha la paralisi ai diti Perché se no Ai diti alle dita I was speaking in dialettum attenzione Gundo che ha una gran palla per Royce Royce il tiro giro di Royce mamma mia mangalale para tutte le blocca tutte eh sì scusa Sirico Santana 1,91 di di corpo per lui di colore si remi attenzione troppa gente qui nella mia area non lo amare si sapevo fosse un gioco di football attenzione si riparte tranquillità ci vuole lo so che una fase importante di questo torneo ma ci vuole in calma il sangue freddo io 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 ma è la prima partita questa che facciamo quando ho cercato degli altri sai che non lo so potrebbe essere come potrebbe non essere essere o non essere questo è il dilemma il dilemma gran palla no Royce io non ci credo contropatte Royce se vabbè io amante c'è più culo che anima ma seriamente ah la vada la bandierina attento Matt Hummels Matt Hummels fa valere la sua altezza incredibile al 23esimo un gol fantastico pulite mi le scarpe schiavi eccolo qui una bella pulizia di scarpe per Matt Hummels che porta in vantaggio lo here again dopo solo 23 minuti di gioco perché siamo con quel nome osceno eh perché quando ho fatto la rosa su prima che uscisse il gioco su internet non sapevo che nome darle gli ho dato ieri game perché sono di nuovo qui la FIFA 12 attenzione Royce gran numero Royce il tiro Lucas il difensore ma la palla ancora lì no ma siamo forti a spazzare il suo bug Lucas mi sono mangiato il gol più facile vabbè a parte il primo ma attenzione di nuovo di testa cosa si è mangiato cosa si è mangiato stavolta mamma mia era un gol era facile come bere un bicchier d'acqua attenzione rigore dai è volato per terra no intanto c'è Manuel Noye nella porta dove vuoi andare 70.000 crediti ben spesi il mio Manuelone e la gente si chiederà azzalto ma tutti quei crediti dove li hai presi no se ne ha mai tantissimi ne ho presi vincendo le divisioni Blasikoschia una prateria può sfruttare il suo 91 di Pace mamma mia come si è stoppato la palla ma chi è di quanti pacchetti alla pum ho aperto una sessantina di pacchetti una sessantina sì una sessantina davvero pensavo di me non ho una sessantina e nei primi 58 non ho trovato nessuno poi oggi ho detto ma ho 40.000 crediti che non so come spendere sull'ultime team ma perché non aprire qualche pacchetto apro il primo pacchetto david silva 50.000 crediti una giornata molto profigo dal punto di vista bello jacks stai scherzata devo entrare in clima torneo aspetta tanto era rigore no non era rigore dai cazzo gli adatti ma non era rigore ma tu sei stupido lo vedi come ma che bastonata che io tolto la basta devo entrare in clima torneo su adesso si gioca solo seriamente attenzione perché luca spodoski è arrabbiato la sua squadra ma dove vanno i miei giocatori dove corrono però se si gira sapientemente c'è spazio il tiro gol mario gozze ma quale script questa è che dai oh è fisso che ogni volta che cosa ma mi sono concentrato un minuto e mario gozze non ha non ha perdonato il tuo la tua dimenticanza il tuo errore vuoi che ti faccio vedere che non è script guarda ti faccio un altro go è script ah è script si è molto script la scusa di Yoman quando perde no c'è lo script se ship si è scritto eh io non è colpa mia che si è difesa c'hai chi c'è a difesa ah sa come ti lamenti pure ma fa schifo sa come non sa come i titoli ah ah perché quindi fai un passato di bag anche su fifa Sì so uff mamma mia stava facendo l'epic fail io uso agbola da fifa no aiusi da patbolla orbi fuori btm attenzione rois spazio andale noes attenzione rois ha voluto strafare brutto ciccione biondo sbona cicciolo finisce primo tempo in vantaggio per un zappo che ha meritato e di grande in questa prima metà vediamo nove tiri contro quattro quindi c'è le statistiche parlano da sole un zappo ma conto solo il putter gioco giusto rigore ma il rigore più venduto della storia del calcio giustissimo mamma io non ci credo il rigore più tanto lo sbaglio fisso il rigore più venduto della storia che orrore santo la tiri centrale tua madre centrale si vabbè non ci credo può poter piace baggare il rigore che non esisteva ma smetti madonna che schifo grandi ragazzi è un putter gioco dai basta vabbò devo giocare a serio io non ci chiamo in serio mi guarda che sono qualche sudo come un maiale aia sto facendo troppi errori devo calmare non so con un'amica latinale di il torneo fu cipa melagono l'unico l'unico non sa chi dalla non era per lui ma se io gli dico di aprire per di là perchè non aprire la per di là da direzioni c'era arrivato c'ero quasi bravo santana mamma mia doveva darla di là doveva darla di là oggi abbiamo studiato i vettori me ne frega un cazzo dei vettori tu invece cosa hai fatto oggi in una scuola io non lo so bello se entrava quel tiro proprio ti proclamavo re del bug di fifa 13 aia aia chill the power of the black defender the black man ai 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 sono momenti di tensione momenti dove il minimo errore può portare alla sconfitta momenti in cui si decide il destino di un uomo senti come gli trema la voce ha paura di perdere no c'è anche freddo perchè ci sono tipo 10 gradi in casa mia perchè io sono al nord io sono padano a differenza a differenza vostra io ma c'è gente che magari non capisce che stai scherzando ma io non sto scherzando no sto scherzando sappiamo che stai scherzando io ma anche perchè adesso ti prendi un'altra picca da rois rois sfonda se vabbè infatti la mia squadra si chiama ariani mica per niente vabbè ma quel portiere è qualcosa di santana mamma mia che palle basta ma non hai toccato un pallone no 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 felipe santana c'è credo se segniamo a santana è tipo correvo guittavo dalla partita dove cazzo corre attenzione Luke Spadolsky rois no 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 sta andando dritto no nooo si si ma c'è il culo più largo del torace eh vai portiamo la casa portiamo la casa si no si 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 no no non ci credo mamma quando tutto sembrava perduto quando tutto sembrava perso manuel noio è arrivato a salvare eh adesso segni eh che segni 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 rigore si eccolo mi sto trattenendo quando tutto sembrava perso no 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 me lo sogno stanotte quando tutto sembrava perso ma che cazzo fa quando tutto sembrava finito nooo non ci io non ci credo gundogan sfoga la rabbia in un tiro nulla da fare si 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 no ma questa è la partita più schifosa della storia no questo dai che c'è una prateria no 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 cerle il cross rigore ma era rigore andiamo perché lei tirava comincia ad aver paura adesso comincia ad aver paura ma che cazzo lo dici cioè per tirla di noi era fatto un miracchio no no la paura si sta appropriando dei miei sensi io ma non non controllo più niente basta è scriptata non è vero non stai per vincere no dai via vogliamo entrambi passare il turno ma sappiamo che è possibile ad una sola persona non rispondono più ai comandi sono impaxiti no 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 oh rigore oh dio che difesa che 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 roba di difesa ho fatto feel like a monster e anche il cammino stop the bug stop the bug stop the bug hummels tutta via si parte in contropiede corri Royce c'hai 90 di velocità apri per Blachikovsky che ha una prateria attenzione adesso qui può diventare tutto più pericoloso Kandogan apre per Podoski che si gira la palla parte il tiro Lukas Podoski al 79esimo incredibile ripassa in vantaggio un tiro clamoroso ultradifensiva via non va via il banner devo mettere ultradifensiva via via ultradifensiva vai me ne frego chiamatemi noob ma io la devo vincere questa partita e io lo dico la portiamo a casa l'ho detto io ma non ti puoi lamentare no aiuto a paura mancano ancora 20 minuti forse l'ho detto troppo presto e mancano 10 veramente ma vabbè no che cazzo fai oh mamma mia prendo gol da calcio guarda so sicuro so sicuro prendo gol da calcio d'angolo no 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 sì no mamma mia mamma mia no vabbè no 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 non ti sei capito la prateria la prateria è tutto può essere lui può essere lui a risolvere la prateria rosso ma che cazzo basta i bug hai salvato 10 gol sulla linea ho capito non è colpa mia buttiamo via mettiamo al sicuro questa partita let's put the partita in the cassaforte vai podovski sfonda col tuo bug vai podovski passale in mezzo il tiro che finirà tutto no il tiro che finirà tutto si può fare sono mancos di italiano attenzione Yoman che non parla più dalla concentrazione ho fatto rimonte ben più grande le sue mani ossute si stringono attorno al pad cercando no 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 si si butta via no fischia arbitro fischia fischia no no la squadra non mi risponde più ai comandi butta via si è finita è finita è finita fischia si si passa il turno passa il turno zampo un 3 a 2 assurdo guarda alaba come sgocciola Yoman dai è stata comunque una bella partita sono sicuro che ne convieni con me no è culo parla più forte va avanti che voglio vedere quanti tiri abbiamo fatto dettagli 15 contro 10 via una partita abbastanza equilibrata comunque meritavo io che dire spero che questo video meritavi te spero che questo video vi sia piaciuto arriveranno presto gli altri episodi del torneo quindi che dire spero vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace un commento se siete ancora fatto iscrivetevi ciao da Zamp bella